a valerio tornate regà allargati bravo 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 è uguale va esci le vale 3 contro 1 bravo bravo fuori segui il movimento bravo bravo 2 ma non ti ha mai fatto va bene ognuno uno ragazzi poi è tuo un giro un giro un giro un giro buono step uno rimane uno rimane di là di là uno 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 bene partito uno no mi sa che sta andando con Gabriele forte 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 cioè tuo figlio sarà con mio fratello uno un giro un giro un giro occhio dietro vai vai un giro un giro un giro portala portala vai 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 bravo 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 stiamo a passi e ricarica questo è tuo ho capito dove siete stati? zingari occhio così bravo 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 e che si intramette negli scorsi a me a quello mi da fastidio sto a parlare di ragazzi bravo 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 no quella di prima non me l'ha data chi sono quelli di prima era fiorca te l'ho dato io un po pesante